L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, pensate che è stato di recente operato, infatti gli è stato tolto un polipo da ben 3 mm, che dagli esami è risultato essere un adenoma di tipo tubulare. Si tratta di una lesione benigna che ha una crescita piuttosto lenta e che potrebbe però essere di tipo precanceroso, quindi potrebbe anticipare un cancro o un tumore. Il polpo sarebbe simile a quello che gli sarebbe stato rimosso nell'anno 2008, non richiede altri nuovi interventi, solamente un semplice e nonché mero controllo rutinario, quindi di routine che dovrà essere fatto da parte dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America quanto prima, quindi in maniera abbastanza ravvicinata, anche per tenere sotto controllo quello che potrebbe essere lo sviluppo di questa adenoma tubulare, anche perché sembrerebbe che potrebbe anticipare proprio un cancro, quindi una neoplasia. Staremo a vedere quello che succederà. Mi auguro tutto bene per l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto caro, da Leandro è tutto e al prossimo video.